Ben tornati su Poembrick con il delicante dell'avvento di Star Wars, oggi è il 22 dicembre E apriamo la finestrella numero 22 Perfetto, cosa ci sarà secondo te perché mancano delle sorprese? La salita e il babbo rasco Anche secondo me la salita e il babbo rasco Vediamo eh Apri piano eh, che casca tutto Vai Badadim No Le due Porca miseria, le due di due abbiamo trovato Abbiamo sbagliato Le due di due No, questo è le due due No, dillo bene No, non lo liquida così perché questo è uno dei protagonisti del Natale Dove che è andato in Natale di quest'anno Allora, questo è le due due R2, D2 Certo Puoi farlo vedere così Certo, può essere o con le corna dell'arella oppure normale Va bene? E dietro non è disegnato perché... Perché non è disegnato dietro, secondo te? Perché l'ha fatto male la Lego L'ha fatto male la Lego? Sì Ah, ah, ah Lei sono alta critica la Lego, eh Va bene Senti, mettilo lì nella... Dove lo metti questo che poi devi trainare la slitta? Dove lo metti? Tipo qui Lì? Non c'è abbastanza spazio per la slitta? Sì Ah, bravo Mettilo lì sopra, dai Insieme alle astronavi E saluta che ci vediamo domani perché ormai mancano due cose, eh Manca la slitta e è C3PO Sì Saluta un po' Ciao Ciao Noi ci vediamo Do Ormai sempre qui su Point Break Sempre qui su? Point Break Ciao Con il? Ciao 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 Grazie.